Da una parte ottimizzare il sistema idrico del paese attraverso un miglioramento della rete dell'acquedotto, dall'altra produrre nel contempo energia elettrica. Ha un duplice valore l'intervento pronto a partire a Druogno grazie ad un importante finanziamento regionale. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Druogno Marco Zanoletti hanno infatti firmato l'accordo di programma che assegna al comune Vigezzino un contributo di 1.350.000 euro per realizzare interventi di ottimizzazione della rete acquedottistica capace di migliorare le funzionalità complessive del sistema e la produzione di energia idroelettrica mediante un utilizzo plurimo della risorsa idrica. Il valore complessivo dell'opera è di 1,5 milioni e il comune interverrà con un cofinanzamento di 150.000 euro. Si tratta di un intervento di estrema rilevanza per Druogno e il territorio circostante, dichiara il presidente Cirio. L'asticità di quest'estate e la crisi energetica che stiamo affrontando oggi ci fanno comprendere quanto sia più che mai determinante investire sulle infrastrutture per preservare e valorizzare una risorsa preziosa e fondamentale come l'acqua. Ringrazio il presidente Cirio e tutta la giunta regionale, commenta il sindaco Zanoletti, per averci dato l'opportunità di realizzare un progetto molto ambizioso che consentirà di produrre energia da fonte rinnovabile e cedere ai paesi della vallata una quantità notevole di acqua potabile.